Una cosa che... Che? Uri, tutto bene? Sì. Hai litigato in vacanza con il tuo fidanzato? No, benissimo, non hai litigato. Ho qualche ragazza sulla... Ti sei ingelosita? No, ho occhi solo per me. Assurta qualche incertezza sul futuro? Mi chiesto, volete andare a convivere? Ha avuto qualche defaianza a letto? Guarda che è normale in estate. Benissimo, quattro ore di media. Vabbè, allora tutto è la norma. Che? Allora, senti, noi siamo i tuoi migliori amici. Che è successo? Mi fa delle foto di merda! Vabbè, dai, quanto saranno... Guarda qua! Oh mio Dio, bruttissime! Lo vedi quel puntino in mezzo al mare? Eh! Sono io! In orizzontale! Di anni 80! Ho detto, amore rifalla che sono un po' piccola piccolina. Sai come l'ha fatta? Eh! Con lo zoom! No, ma uno prima di fidanzarsi, mi fai vedere come fai le foto e poi... 14 giorni di vacanza! Neanche un post decente da poter pubblicare! 15 per 4 su 56 ore! Eh, come non essere andato in vacanza! A questo punto meglio il mio ex! Quello che ti tradino! Però che foto che mi faci! Grande fotografo! Dopo i primi 10 minuti... Che ti fai? D'accordo! D'accordo! E好了!